Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di programma misteri di dungeon squadra rossa e lo squadra di soccorso episodio abbiamo assoluto anche artico 1 mamma mia, abbiamo inserito tutti i colori prima, mortes e poi artico 1, tratto in più, Absoll si è unito alla squadra di soccorso, effa come vedete sto sentito di montagna ghiacciato sempre inderminabile, abbiamo camminato molto per arrivare fin qui anche il sindaco gli sembra non farcela più, la disperazione ci ha spinto fin qui che cosa ci attende più in là, stiamo facendo la cosa giusta che freddo, è insopportabile, c'è solo neve, il paesaggio non cambia di una vigola chissà se tocca questa fatica se vi dà qualcosa Ehi Totoro, stavo pensando che vedete che abbiamo raggiunto il lucco nel quale non troveremo proprio nessuno e per sentimento se anche continuiamo a camminare non incontreremo un bel niente e sono senza fiato ormai e cosa ne so, non ne ho idea Scusami, ho detto una cosa stupida e ti ho spaventato ma c'è un motivo di interrogarsi sul futuro non dopo tutta questa strana non sappiamo che cosa ci aspetta fin là lo sapremo solo se non demordiamo non preoccupateci, ci deve essere qualcosa più avanti ho fiducia in te, Totoro, è per questo che sono qui continuare ad essere così, Totoro, la fiducia in te non ho ne è cambiata seguo ovunque e sempre eh sì, sin da cui la fiducia ha incondizionato in me non posso farmi vedere cosa esistitante credere, devo credere più in me stesso infatti io credo in me cosa? che succede? oddio, l'evoluzione sto forse impazzendo c'è qualcosa che non va ehi, c'è qualcosa che non va, Totoro è così, è così alla fine ce l'hai fatta qualcuno, qualcuno mi sta parlando Sinnaquil, no, non è la voce di Sinnaquil ah già, ho già sentito questa voce Gardevoir così ce l'hai fatta ti stavo aspettando no, no Gardevoir sono così felice finalmente ci incontriamo tu sei a Totoro, qualcosa non va non ti stai parlando gli altri non mi possono vedere solo tu mi vuoi vedere più là qui là c'è una catena di i-i-i montagne tra le quale svetta il monte sul gelo sulla cima vive Nine ah, c'è anche Nine Ninetales ah, ecco la leggenda di Ninetales quindi se proseguiamo incontreremo Ninetales Ninetales si sta aspettando si tutende ehi, aspetta ehi, toto, dai, toto, dai qualcosa non va cosa è accaduto oh, quindi sono le cose stanno così ti ha passato a Devo ecco perché avevi quella faccia stupita prima che sorpresa Ninetales non è solo una leggenda esiste veramente Ninetales si trova ok quindi dobbiamo abbiamo fatto un altro dungeon e poi incontreremo Ninetales probabilmente anche Ninetales si sfiderà wow toto tell tutti gli sforzi che abbiamo fatto per arrivare i figli di danno e i loro frutti incontriremo Ninetales e ci faremo raccontare tutta la verità oddio chiedevo di Sparks scotta toto, dai non ti preoccupare è andata tutto bene frase detta spesso durante il covid-19 scherzo toto, dai è incomprensibile che tu abbia paura di incontrare Ninetales domanda senza pietà che ha abbandonato Gadda quella persona potresti essere tu capisco che abbia preso in considerazione questa neutralità ma non è possibile non sei tu quella po' ok ti fai così tanto di me ammette di aver avuto qualche dubbio in passato ma ora ora mi chiede il perché non riesco a spiegarmelo il passato è passato toto tell un cuore dopo sai l'idea di formare una squadra di soccorso mi è venuta quando me ti ho incontrato nel bosco fiorito toto tell ho capito di trovarmi di fronte a qualcuno di speciale curioso non trovi di usare in te a toto tell scopriamo la verità quando raggiungeremo la vetta toto lo impregniamo sul fun ok ritroviamo è fatto dobbiamo ritirare gli strumenti e abso la seconda la squadra incredibile l'avrebbe mai detto ok potremmo anche rimigliare qua che assieme le oggetti legate oddio però non ho mele qua potre se ne rischio ok monte su gelo no monte su gelo ok vediamo che mosse absoll graffio mi si guarda provocazioni tracolabili sapevo che aveva mosse utile per il momento non è ancora possibile ritrovare no possiamo trovare delle vele altrimenti schiatteremo dalla fame qua perché sono andato di qua atto siamo nei posti dove c'è la neve qua un vineco peccato che siamo ancora tipo nei momenti cruciali in cui ancora tutte le squadre di soccorso a parte che solo in pochi ci hanno creduto innocenti sul fatto delle sul fatto che non che non è stato totale visto che siamo dei totale non è stato lui a causa delle calamità naturali fallisce oddio non è che dobbiamo affrontare 9 3 semmai abbiamo la necessità oddio tanto andando avanti con la storia stiamo incontrando pokemon sempre più forti meno male che in off camera facendo le missioni sono riuscito a sono riuscito a livellare di più oddio intanto stiamo trovando facilmente le scale qua e l'avanzare oh finalmente una mela a mettare il livello forca miseria ci stanno lanciando forca miseria sa che sta iniziando a diventare difficile adesso non so se il remake è più difficile dell'originale eh tipo parlo di squadra di soccorso di X non so se è difficile quanto l'originale oppure addirittura più difficile dell'originale ok ma ne ho combinato la mossa ok livello 27 isotruce isotruce però cala solo di molto la velocità 1 vedo che serve di 1 oddio tutto di 1 tutti questi program qui di nel monte sul cielo hanno un bel po' di esperienza in più ok andiamo adesso altre avventure fatto non so credo che sono ancora lontano dal finale di gioco oppure no perché non credo che sono ancora lontano dal finale speriamo che non ha molti piani come altri dungeon qua e tenteniamo ci credo fatto speriamo che non dobbiamo avere troppi problemi a trovare le mele qua qua più camminiamo e più il livello di fame scende cioè il livello di pancia qua ok non so quanti piani ha c'è pure un vigolo troppo la miseria stiamo trovando un sacco di programma evoluti né in questi tangi vanno qua intanto siamo ancora dei fugitive ne abbiamo proprio solo in po che hanno approvato proprio la nostra in del dice in approvata la nostra innocente che non siamo assai mai a causa delle calamità naturali chiedo chi sarà proprio il vero colpevole delle calamità naturali poi a causa delle calamità naturali ok già 13 minuti di gameplay per cammino un altro dungeon con molti piani e ci mancava pure la neve ci mancava pure la neve la me la mella la mella la mella la mella c'è quanto denario stiamo facendo ormai stiamo diventando proprio ricchissimo di oscuriate oddio undicesimo piano non siamo ancora non abbiamo ancora raggiunto io barahonda pensavo che barahonda causava danno c'è a differenza dei classi giochi voglio che barahonda non causa danno che missile dungeon è una mossa di stato che ricordavo che barahonda quale slacking kimeko oddio stavante su cielo è proprio interminabile putt'affacca meno male che ho livellato tantissimo mentre fanci mentre svolgevo le missioni non focavola eh non so comunque se visto oddio non si va non si va e perde non me l'aspettavo di incontrare anche quanti pokemon sto incontrando a monte su gelo oh my god mamma mia c'è non finisce mai stiamo a quattordicesimo piano non so comunque se mi sta piacendo questa serie gameplay spigro oddio è addormentato ok abbiamo fatto livellare absoll questo pokemon deve dimenticare che è il morso non so posso rinfluirmi si guarda che poi fa abbassare la difesa e infatti dobbiamo affrontare le catassi a finato l'alqua che a quanto pare finalmente alcune hanno capito che non siamo stati noi a causa delle catassi più naturali non so io forse una mezza idea che fosse stato Gengar a causa delle catassi le catassi più naturali poi non so ma è in tempi nato questo mondo è sul cielo quanti piani ha? ma tu non pensavo che la mossa pico lo scendiamo ancora oddio finalmente siamo arrivati salviamo e speriamo bene qua mamma è un up dio reglali esatto perché non so nemmeno se mi sto avvicinando al finale oppure no non vorrei sbagliarmi ma forse devo darsi pure che non sono ancora parecchio lontano per raggiungere il finale non saprei non saprei penso è finito una serie gameplay su misteri da una squadra rossa potrei portare una serie gameplay su Assassin's Creed Bloodline se mentre per quanto riguarda Pokémon Smeralda non so quando lo porterò dovrei portare anche qualche serie gameplay anche su su mafia eh su prima mafia se poi la la remaster PlayStation 4 eh e poi non so magari più in avanti potrei portarlo una serie gameplay su Pokémon Smeralda quello no non non mancherà e più in avanti potrò anche la serie gameplay su e poi magari più in avanti potrei anche portare quella la la serie gameplay su Pokémon Mystery Dungeon che l'altro Mystery Dungeon Esploratori del cielo per quanto pare perché dovrei capire come si cacchio si fa a sconvincere i round non è che non è che dovrei livellare a manetta perché la tattica non so diciamo dovrei poi prendere un compagno in squadra che conosce Morso conosce la Mossa Morso tipo che a parte che so che anche Ivi finalmente impara Ruota Fuoco oddio Ruota Fuoco a posto di azione ma non serve per più ok fatto sto gioco non abbiamo ancora oddio non abbiamo più buro di fumo ah già è vero ma cazzo noi l'abbiamo combinato con muro di fumo ecco perché non c'ha più muro di fumo vediamo come è l'animazione c'è per sfido voglio vedere com'è l'animazione di Ruota Fuoco di sindaco ti avrei dovuto separare la mosso ok siamo già su 22 minuti di gameplay wow ora si che sindaco il è diventato un velo chad questo game parlo anche la mossa ruota fuoco infatti mi piace il ruota fuoco peccato che secondo me per rimuovere cosa la la per rimuovere le mosse combinate dovevo per forza andare dalla b tecnica gold pin per rimuovere la mossa combinata ok tra l'altro oddio 14 ore di gioco e non sono ancora arrivato a finale poi intanto vabbè intanto con le missioni con le missioni che potrei riuscire a fare con il time di posto pelli per il per il per il per il per il tranquillamente riuscirò a fare ben che non so quante ore di gioco ne usciranno in un mister dungeon non 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 siamo ancora più anita niente io ho fatto devo controllare spesso il livello di pagno altrimenti che come già detto nelle scorse campi scende a zero si ho di fare oddio speriamo bene che ce l'abbiamo fatta finalmente questa è la cima vero mi chiedo dove sia niente ecco ho individuato toto dai bene li vedo oddio porca troia non mi aspettavo ti troverai all'accazzammo e raure finalmente vi abbiamo raggiunto la vostra fuga ci ha portato fin qui calma e sangue feddo taranita finalmente possiamo rivol oddio non ci posso credere no questi ci faranno il culo riesco a trattere il mio attento non vedo l'ora di toltare sindacuil non pensare male di me ma non con la scopietà toto tal non volevo arrivare a una simile conclusione ma il destino ha voluto così la scopa di una squadra di soccorso è quella di aiutare a portare la pace lotteremo con tutte le nostre forze all'attacco non ci posso crescere hanno trovati basta fermatevi immediatamente oh Ninetales cosa Ninetales ma quella è Ninetales la leggenda è vera smette di lottare alla kazam sono sotto la mia protettiva scusa l'osso Ninetales chi era l'umato in cui nella legge è leggenda anzi prima di passare questo commento in base alla leggenda se è vera o meno in base alla tua risposta deciderò se procederà la loro sconfitto che la mia maledizione venga considerata una leggenda non mi tange tuttavia è un fatto reale anni ho solo lasciato una maledizione sull'umano fu allora che gadevo compagna di squadra dell'umano si intromisse sostenne attristicamente che tutto il peso della maledizione anche se era rivolto all'umano fu l'umano poi l'umano fece una cosa ecologica e quadata abbandono gadevo i refugi l'umano alla fine diventa un pokemon sotto le sembianze di pokemon l'umano vive ancora e chi sarebbe quell'umano chi è l'umano di cui parli toto dai puoi tirare il suo sfido di sollievo non sei tu oddio quindi non siamo l'umani che quindi non siamo stati noi a toccare la cosa di tante cosa appena detto totatani non sei un essere umano della leggenda ecco cosa ho detto cosa 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 mi sta succedendo non riesco a muovermi per la tensione espiri profondo ispira 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 wow fantastico oddio ci sta girando intorno alla grande sapevo che tototay non c'entrava nulla lo sapevo tototay non può fare una cosa del genere non è nel suo stile ho un'altra cosa da aggiungere ho previsto che l'equilibrio del mondo avrebbe subito sconvolgimenti questo non lo posso negare tuttavia non esiste nessuna relazione tra la trasformazione dell'umana in il pokémon e l'equilibrio del mondo la casa delle canali deve essere cercata a trover e voi mi siete sbagliati fraccare tototay e mettere in dubbio la sua bona è stato un errore oh un errore chiediamo scusa ci dispiace siamo stati isticati da gengar no avevo sospetti su gengar ok quindi è stato gengar a causa delle calamità naturali tototay non ha un aspetto malvagio se solo fosse vero una cosa da aggiungere siete da rodare perché avete intrapreso un viaggio imperio e avete scoperto la vi verità sono molto coppito tototay ah fantastico sapevo di essere dalla parte della ragione eh un attimo allora perché tototay è un pokemon capisco che tototay non è l'essere umano nella leggenda ma si può spiegare perché tototay ha spiastuto le sembri andato un pokemon tototay chi sei ah il suono sta tremando ah un terremoto le superficie della terra si sta spostando le calamità naturali si stanno intensificando lo spostamento del suono il mosso del signore del suono il mosso che dorme nelle profondità groundon dobbiamo affrontare anche groundon che è un atto leggendario eh cosa groundon si sta risvegliando groundon cosa groundon non ho mai sentito questo nome il leggendario della terza generazione il pokemon leggendario di si narra nei racconti mitici è il pokemon che ha fatto emergere le tete e ha creato i continenti dice che si è addormentato dopo aver lottato aspiratamente contro il suo alci nemico Kaiogre se groundon si risvegliasse scaderebbe il caos bisogna fermarlo siamo pronti ad intervenire ci uniamo anche noi no non dovete seguirci groundon è molto più potente di qualsiasi altro pokemon che avete affrontato finora lasciate fare a noi proprio così ritornate alla base della vostra squadra per il meritato riposo non preoccupatevi per noi non ce l'hanno mica regalato il rango oro potremo potremo a termine la nostra missione ritorneremo prima del previsto bene ora andiamo a plagare la furia di groundon quindi non saremo noi a lottare contro groundon ma alakazam takami tadè shalika e così la squadra di alakazam si dirige nelle profondità per pagare groundon che si è risvegliato nel frattempo la squadra di totodal ormai libera di ogni sospetto conclude il suo loco lungo fatigoso e bianco facendo ritorno all'accogliente confortevole base oh finalmente si ritorna a casa allora nel frattempo in piazza pokemon che ehi voi perché non mi state dando la caccia a totoro alla squadra di totoro più facile a dissi che a farsi noi non siamo all'altezza dicono che tototale e la sua squadra avrebbero fatto parecchie strade noi al massimo potremo potremo arrivare alla grotta turchina ma mi sono unito agli inseguitori ma fu già schiannolo raggiunto il monte vampa non ci andremo mai là dentro è lì che ho deciso di abbandonare l'inseguimento sono un pokemon di tipo eba e io il fuoco non andiamo d'accordo non so cosa sia successo alla squadra di totoro all'inseguito certo che quella squadra pensate che coraggia a gli schiassi al monte vampa sono degli ossiduri io non posso più competere che non sei altro che uno svidolava tu che parli tanto gengar che fa la tua squadra c'è un donare in pazza tutto il tempo senza comprare mai nulla di buono fai presto tu a parlare facci tu con la squadra non è nostro compito che noi dobbiamo rimanere qui per attendere la notizia della sconfitta di totodale che eh e chi ti ha stato questo incarico tu stesso è incredibile una notizia strepitosa che succede medica totodale totodale era ora finalmente ci siamo in totodale no al contrario totodale è di nuovo qui eh ma che blatteri guardate guardate la totodale sono loro salve ragazzi eccoci di nuovo qui l'abbiamo fatta finalmente è stato un lunghissimo viaggio quanti ricordi afferano tornando in piazza vero totodale ehi sindacone ah sei tu gengar come te la passi che è cos'è quel tono soddisfatto e confidenziale forse gengar hai raccontato solo delle frottole totodale non ha nulla a che fare con questa vicenda totodale è innocente eh come è la verità sicuro l'abbiamo l'abbiamo chiesto diventami del nineties totodale non è l'essere umano della leggenda abbiamo fatto il ritorno non abbiamo non appena abbiamo saputo la verità uh che 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 un secondo chi è che si fida di voi hai qualche prova di ciò che ti che stai dicendo ho prova hai capito bene qualche prova concreta che che forse cosa aspetti le prove non abbiamo non ne abbiamo di prove che 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 peccato non avete prove adesso siete di nuovo qui possiamo sbazzarci fragilmente di voi che sciocchi ehi amici pokémon ecco la vostra grande occasione per sbazzarvi di totodale che avete ragazzi non voglio le retole di mezzo d'offer io veramente ho sempre caduto in totodale non mi faccio più abbindolare da te io non ne voglio più sapere nulla la squadra di totodale mi ha salvato qualche tempo fa mi ha hai fatto tante progressioni che mi sono unito agli inseguitori ma non riesco a credere che totodale abbia fatto qualcosa di male che è che anche io ne sono convinto fiducia in totodale certo anche io chi ha bisogno di prove amici edizione straordinaria leggete l'edizione straordinaria e cos'è questo sembra un giornale non è così ok leggerà voce alta vediamo l'edizione straordinaria totodale innocente totodale ha incontrato niente sotto lo sguardo attento di alakazam ed ha saputo di non avere nulla a che fare con l'essere umano della leggenda persino le insinuizioni di enga sono arrivati menzioni menzioni sei un impostore gambe in spalla fermati cialatano c'era girato che bello avevi di nuovo qui eh si è bello essere di nuovo a casa avevamo un po' presto di tornare che sollievo le accuse contro totodale sono crollate anche io provo un certo sollievo ma dobbiamo più scappare da tutte e tutti noto la stanchezza comincia a passare silenzio domani è il giorno il grande ritorno della nostra scuola faremo vedere tutti chi siamo ok ok ragazzi credo che potrei terminare qui questa gambe lunghissima quindi da posso comare se me tutte ci becchiamo alla prossima non Grazie.